Vi presento il sandalo che noi vi proporremo nella stagione estiva 2016 per la prima volta. Questo sandalo si chiama Capri. È un sandalo che ha delle particolarità molto interessanti. È realizzato sempre con le nostre solite pelli conciate al vegetale, cioè conciate con tannini di mimosa, castagna e quercia, e è realizzato con un sottopiede anatomico a forma di piede, come vedete, ricoperto completamente con questi nostri pellami. Anche le parti di pelle sono rivestite, come vedete, con la nostra pelle da fodera che dietro porta un soffietto morbido dove si può collocare il calcagno e poi ha una fibbia su cui scorre il cinturino in modo tale che quando si cammina e il piede scivola indietro il cinturino stringe sulla parte del collo del piede e se il collo va in avanti, così, il cinturino scorre e stringe la caviglia. E quindi è un sandalo che può essere utilizzato anche per fare delle belle camminate, non è un sandalo all'interno del quale il piede possa scivolare. Ora vi descriverò come è realizzato il sottopiede. La particolarità di questo sandalo è di avere un sottopiede anatomico rivestito completamente in pelle. Il rivestimento viene fatto attraverso uno stampo d'acciaio all'interno del quale viene inserita la pelle piatta, viene creato il vuoto, la pelle aderisce perfettamente a tutte le pareti dello stampo assumendo l'anatomia, praticamente creando l'arco plantare che sosterrà il piede e creando la vaschetta all'interno della quale il piede verrà a collocarsi. La bellezza di questa tecnologia è che da una pelle piatta si ottiene una pelle con tutte queste rotondità che non fa pieghe né in punta né sul tacco. Poi sotto viene inserito un sottopiede di schiumato di lattice il quale manterrà tutte quante le rotondità che la pelle assume aderendo allo stampo.